Vediamo cosa succede tanto così. Per cominciare in allegria e spensi rotezza. Tornano le rocambolesche avventure del gruppo di pescatori più strampalato della tv. Shark Traffing. Per i più cattivi. Siamo io e lui e basta, eh? Sì, sì, sì. Ricordatevi che siamo solo pescatori di domenica, eh? La nuova stagione. Dal 17 luglio ogni lunedì alle 21 in esclusiva su Pesca, canale 236. La nuova stagione.